Sei già in piedi oppure dormi? Buongiorno Elsa, dormito bene? Cioè, questa è una scultura da 100 milioni di dollari Domanda, come farò a staccare questa box? Mi sa che l'unico modo è questo Che freddo! Non ci riesco! Ok, strappiamola così Ti prego, mandatemi tutte le good bites Elsa, ti prego! Jasmine, ma tu non potevi stare sul tuo tappeto insieme ad Aladdin? Dopo questa, io ci rinuncio davvero Oppure no?